Prima di tutto l'ecografia non ha evidenziato lesioni, ma solo un affaticamento e questo è sicuramente il risponso positivo che tutti ci auguravamo. Stamattina ha fatto il primo step, il primo allenamento sul campo non completo come gli altri, però le risposte stamattina sono state abbastanza positive. Aspettiamo l'ultimo step che è quello di domani mattina prima che si possa partire per Livorno in modo tale da capire se il ragazzo sarà a disposizione o meno. Le risposte sono state positive anche quando abbiamo utilizzato il trequartista, anche quando penso a qualche partita che siamo riusciti a sbloccarla nel finale con il trequartista più i due attaccanti. Orientativamente ho già deciso, è chiaro che c'è solamente il dubbio del centrocampista perché se non ci ha dovesse fare De Feodis è chiaro che ne giocherà un altro con ragazzi che hanno dato delle risposte importanti anche nella gara di Coppa Italia a Prato e quindi ci sarà da fare delle valutazioni attente anche sul grado di difficoltà della gara perché è derby, perché è di sera per il ruolo che c'è in mezzo al campo, però chi chiamerò in causa se eventualmente Giuseppe non ce la dovesse fare sarà sicuramente all'altezza della situazione perché veramente sono rimasto molto soddisfatto della prestazione di mercoledì. È un Livorno arrabbiato però un Livorno che potrebbe anche avere qualche certezza in meno che potrebbe anche soffrire, molto dipenderà dalle difficoltà che gli creeremo anche noi. Dovremmo essere bravi a non fargli alzare la testa, dovremmo essere bravi a non... ad accentuargli i dubbi e togliergli le certezze. Non è... è più semplice a dirlo che a farlo perché poi vai a vedere probabilmente recupereranno Ielenic, gli rientra il capitano, Luci, quindi vanno ad aumentare il bagaglio e il tasso di esperienza dentro la squadra. Se andiamo a vedere ci sono tanti giocatori che l'anno scorso hanno fatto la Serie B, è vero sono retrocessi però hanno fatto la Serie B e questo comunque nel riuscire a gestire certe pressioni sicuramente aiuta. Però la consapevolezza che si debba fare una gara al limite massimo, al 100% delle nostre possibilità per tutto l'arco della partita, questo credo che i ragazzi ce l'abbiano ben presente nella consapevolezza che se riusciamo a fare questo abbiamo le armi, abbiamo le qualità per poter mettere in grande difficoltà i divorzi.